L'European Film 2018 è Cold War. Marcello Fonte conquista anche gli European Film Awards 2018, ma il film che ha sbancato è Cold War, che dalla Polonia in macerie e dalla Seconda Guerra Mondiale si porta a casa ben quattro premi e tutti importanti film, regia, sceneggiature e attrice europea. E' un film sul destino dell'Europa che parla di sensibilità. La storia a volte ci passa sopra, ma a volte riesce a far uscire da noi il meglio. Penso sia un vero film europeo, ha detto ai nostri microfoni il regista. Il talento naturale di Marcello Fonte in Dogman è stato premiato per la seconda volta dopo la Palma d'Oro di Cannes. A noi di Euronews, Marcello Fonte spiega come si è preparato al ruolo del canaro, interpretato in Dogman. Tre mesi di preparazione. Sono andato a lavorare in una toiletta per cani. Ho lavato i cani dalle nove di mattina fino alle sei di sera per capire lo stress del lavoro. Questa cerimonia è la celebrazione del cinema europeo e della sua diversità in tempi di Brexit. La solidarietà dei registri europei può fare la differenza. Forse la solidarietà dei filmatori, Wolfgang Spinnler, di Seville, per Euronews.